Sarà una sfida a suon di voti, quella tra i due candidati a sindaco di Licata, Angelo Cambiano e Giuseppe Galanti, unici due competitors in corsa per la carica di sindaco al secondo turno di ballottaggio, di domenica 14 e lunedì 15 giugno, giorno in cui i licatesi saranno chiamati nuovamente alle urne per scegliere il loro candidato sindaco. Si avvia dunque al termine l'ultima settimana di campagna elettorale, in cui i candidati sindaci hanno provato a convincere i loro concittadini della bontà delle proprie ragioni per arrivare alla seconda votazione, in cui, lo ricordiamo, non è necessaria una maggioranza assoluta, ma vince il candidato sindaco, che prende un voto più degli altri, soccorrendogli il premio di maggioranza attribuito dalla legge elettorale, per i comuni che assegna alla coalizione vincente i tre quinti dei seggi nel Consiglio Comunale. Da lunedì è iniziata la settimana cruciale, ricca di impegni per i due candidati in vista del ballottaggio, con i comizi elettorali nelle piazze. Queste sono le ultime ore di campagna elettorale fino alla mezzanotte di domani, quando scatterà il silenzio elettorale imposto dalla legge in vista del voto del ballottaggio. A contendersi la poltrona di sindaco sono Angelo Cambiano, arrivato primo al primo turno delle elezioni del 31 maggio scorso, ottenendo 5.738 preferenze, seguito a ruota dall'altro candidato, Giuseppe Galanti, che nel primo turno di voti ne ha ottenuti 5.011. Completati gli apparentamenti, il quadro si fa chiaro. Ricapitolando, Cambiano è sostenuto da tre liste civiche di centrodestra e ha ufficializzato l'apparentamento con la lista civica per Licata, che al primo turno sosteneva Giuseppe Montana. Mentre Giuseppe Galanti, sostenuto da 5 liste, PD, Nuovo Centrodestra e tre liste civiche, ha presentato il collegamento con le liste PDR e Sicilia Democratica per la riforma, che al primo turno sostenevano Giuseppe Ripellino. A Licata, gli elettori chiamati alle urne sono 42.412, di cui 21.285 uomini e 21.127 donne. L'affluenza dei votanti al primo turno era stata di 21.241 elettori, con una percentuale del 50%. Si vota domenica 14, dalle ore 8 alle 22, e lunedì 15 giugno, dalle 7 alle 15. Si va a votare solo per il candidato sindaco, quindi l'elettore, all'atto della votazione, riceve un'unica scheda. Il voto si esprime tracciando sulla scheda con la matita copiativa un segno sul nome del candidato sindaco, contrassegnato nell'apposito rettangolo. A Licata, intanto, si è già scatenato il toto sindaco, chi vincerà tra Angelo Cambiano e Giuseppe Galanti. Non ci resta che aspettare, e comunque ai cittadini l'ardua sentenza.